Professor Garattini, dentro la ricerca la persona prima di tutto. Qual è fondamentale di importanza proprio l'approccio della ricerca oggigiorno, della ricerca no profit? Quello che è importante è che la ricerca no profit sia veramente nell'interesse del paziente, perché abbiamo purtroppo tanta ricerca che invece è nell'interesse dell'industria, che è nell'interesse di altri, è nell'interesse del mercato. Quindi noi abbiamo bisogno prima di tutto, per ragioni etiche, che la metodologia sia una metodologia adatta, perché se la metodologia non è adatta è sbagliato fare ricerca, non serve a nulla, non si riesce a ottenere poi il risultato che si vuole. E purtroppo la ricerca che si sta facendo oggi è piena di problemi. Sono tanti studi che vengono fatti contro placebo, quando invece c'è un farmaco di riferimento. Quindi è facile trovare che un nuovo farmaco è più attivo del placebo, è molto più difficile trovare che sia meglio di quello che già esiste. Quindi gli studi di comparabilità sono degli studi che sono importanti e dobbiamo creare fiducia nel cittadino facendo vedere che facciamo studi che sono nel suo interesse. È chiaro che contro placebo non è nel suo interesse. Invece se cerchiamo un farmaco che sia meglio di quelli che esistono, gli studi di non inferiorità sono degli altri problemi importanti, perché in questi studi l'ipotesi che si fa è studio questo farmaco pensando che sia peggio di quello che già c'è. Se vengo smentito dallo studio vuol dire che non è peggio, ma questo non è quello che vogliamo e non è quello che vogliono i cittadini. I cittadini vogliono avere farmaci che siano meglio di quelli che già esistono. E così l'attenzione è spesso orientata verso i benefici, ma tutti i farmaci hanno anche degli effetti collaterali. Quindi dobbiamo far vedere e dimostrare al cittadino che non cerchiamo solo i benefici, ma cerchiamo anche la tossicità. Se noi ci mettiamo in questa posizione, certo che poi il cittadino avrà grande fiducia in quello che facciamo e quindi ci aiuterà e ci sosterrà, perché senza la partecipazione dei cittadini è impossibile fare ricerca. Per quanto riguarda la professione dei ricercatori, quali possono essere gli sviluppi e le azioni più importanti al loro fianco? Secondo me prima di tutto devono avere la volontà di formarsi, non ci si improvvisano le cose, bisogna sempre avere presente che a qualsiasi livello siamo possiamo sempre migliorare e quindi avere il ricercatore deve essere prima di tutto umile perché se ricerca sa che non sa e quindi è molto importante questo come atteggiamento. E poi deve essere aiutato, cioè bisogna che ci siano disposizioni corsi e che soprattutto ci siano disposizioni risorse perché se non ci sono risorse, le risorse si andranno sempre a cercare a livello dell'industria. Ci devono essere invece risorse pubbliche, il Servizio Sanitario Nazionale spende 113 miliardi all'anno, 113 miliardi di euro, quindi anche soltanto se l'1% venisse dedicato alla ricerca indipendente, miglioreremmo alla fine il modo con cui lavora il Servizio Sanitario Nazionale e oltretutto otterremo anche dei grandi risparmi. Per quanto riguarda Fadoi, la figura dell'internista e l'attenzione che ha Fadoi alla ricerca, quanto è importante anche una multidisciplinarità? Fadoi da questo punto di vista è un esempio perché fin dall'inizio ha posto al centro del problema la ricerca clinica indipendente e a tempi ben ritmati fa sentire la sua voce e quindi propone elementi per migliorare la ricerca clinica indipendente. Noi abbiamo veramente bisogno di migliorare, abbiamo i ricercatori, dobbiamo formarli meglio, dobbiamo avere più attenzione ai problemi che prima ho cercato di menzionare e dobbiamo però avere anche più risorse altrimenti non riusciremo a svolgere la nostra attività.